Adesso ehi, prendendo il video, no no, gli fanno il video così, e non ha senso, e noi facciamo il video, e dopo gli facciamo il casino da sopra, almeno non vuoi così, troppo è meglio di noi. A ver, eh, per il video, come si chiama, non mi ricordo, per il video è meglio che io sto qui? No, io guardo qua. No, io, è meglio che io. No, vai bene lì, ma. Ok. Ok, sì, sì, però lo urlano quando io faccio il sanzo. Sì, non lo urlano quando tu parti. Ok. Quando parto o quando ti vediamo? Quando... Ah, ok. Ok, però, lo vedo già due volte, eh. Bravo comandante, anyway, anyway. Ok, è una sorpresa per Poli. Ah, per Poli? Sì, sì, sì. Ok. 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 Eh? Ok. Allora, non vi faccio il sanzo. Ok. 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 Ok, comandante. Buonasera. 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 Etexto. Buonasera. Grazie a tutti. Siamo così, è uguale. Un saluto a tutti. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un saluto a tutti. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no.